Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Deborah Play e questo è il mio canale Questo non è né un annuncio né un video, ma è una cosa un po' come avviso Qua sotto nei commenti mi dovrete consigliare quale sarà il nostro team Per esempio tipo team unicorni, team pannacorni, non lo so Scegliete voi il nostro team Perché ogni youtuber ne ha uno, quindi siamo indudici che non l'abbiamo Noi abbiamo solamente la mascotte, abbiamo la mascotte del canale, cioè unicorni E il team lo stiamo facendo in questo video Perciò sotto nei commenti scrivete come si dovrebbe chiamare il nostro team E quello più votato sarà il suo team E scrivete, mi raccomando Comunque lasciate like Iscrivetevi al canale, condividete con tutto il mondo E ciao!